Buone notizie per Mr. Braglia. Gabriele Bernardotto potrebbe far parte della spedizione di Terni. L'attaccante ex Lanusei ha eseguito il tampone molecolare che è risultato negativo. Nelle prossime ore effettuerà l'analisi di Rito prima di aggregarsi nuovamente alla squadra. Sicuramente non al top, potrebbe però dare una mano ai lupi sia liberati sia, anzi, soprattutto nel match contro il Bari nella settimana successiva, considerato da tutti il vero big match per il campionato dell'Avellino. Intanto ci sono novità per il torneo di Lega Pro. Il consiglio direttivo, riunitosi in videoconferenza, ha condiviso e deliberato lo slittamento del calendario delle partite di Serie C con lo spostamento del turno infrasettimanale dal 14 al 18 aprile, ovvero Vibonese-Avellino, della penultima giornata di campionato dal 18 al 25 aprile, Avellino-Teramo, e dell'ultima giornata dal 25 aprile al 2 maggio, ovvero Cavese-Avellino. La motivazione alla base di tale decisione è stata quella di consentire di liberare ulteriori slot per il recupero delle gare rinviate.